Mirko Reniere, quattro giorni dopo il K.O. nel big match col Bubi Merano, questa amichevole importante col BPP Verona e anche per fare comunque un cambio anche di partita per affrontare squadre ovviamente più forti. Intanto ringrazio Verona che ci ha concesso questa opportunità, per noi è stato un bellissimo allenamento contro una squadra molto forte che fa un campionato di A2, penso una delle squadre sicuramente più forti penso che abbiamo ottenuto anche discretamente il campo, abbiamo fatto bene, al di là del risultato che comunque è stato abbastanza benevolo nei nostri confronti, non benevolo perché non meritato ma è stato contenuto perché siamo stati anche bravi, siamo riusciti comunque a non stratturarci cercare di fare il nostro gioco, è chiaro che abbiamo incontrato tante difficoltà per i loro ritmi e chiaramente le loro qualità nettamente superiori, però l'importanza dell'allenamento è stata proprio in funzione di questo. Come si riparte invece in campionato dopo una sconfitta che comunque è pesante dal punto di vista della classifica? Sì, direi che è un peccato perché probabilmente siamo incappati nella nostra peggior giornata quando proprio non ci voleva perché venivamo da un periodo molto positivo e al di là dei risultati anche come prestazioni, peccato perché abbiamo commesso delle grosse ingenuità e abbiamo giustamente pagato, però credo che ci sono ancora nove partite a giocare siamo dietro a un punto, il nostro obiettivo è quello innanzitutto di cercare di vincere sempre poi abbiamo una squadra davanti di un punto, una squadra dietro di due che io non scorderei perché qua si parla solo di Bubi e HDI ma la Grolla secondo il mio punto di vista è forse la squadra più di qualità del campionato e dovrà incontrare sia noi che il Bubi, quindi questo è molto attento anche alla Grolla perché di solito come si dice fra i due litiganti è sempre il terzo che gode quindi sarà un campionato bello fino alla fine e speriamo chiaramente di poter continuare questo momento positivo al di là dell'ultima gara e magari recuperare il punto al Bubi in ogni caso se noi procediamo in questo modo credo che a fine campionato in qualsiasi sia il risultato credo che l'annata sia molto positiva sia dal punto di vista della crescita, un pochino dell'ambiente parlo del nostro che è in HDI, sia di squadra sia di società